Ogni giorno ad Agrigento ci sono 8 tonnellate in più di rifiuti e l'aumento della spazzatura stando ai dati dell'ISEDA e della SEA, le imprese che si occupano della raccolta è concomitante con l'inizio del servizio di raccolta differenziata in alcuni comuni confinanti con il capoluogo. Le criticità maggiori vengono registrate e documentate anche attraverso dossier fotografici con data e ora nelle zone di Monserrato e della casa natale di Pirandello a Quadrivio Spinasanta a San Michele e nella zona appena fuori quartiere di Fontanelle. Un aumento di rifiuti di ogni tipo, a volte già differenziati, che vengono lasciati nel primo cassonetto disponibile e che vengono smaltiti nella discarica di Siculiana, sostanzialmente a spese dei contribuenti agrigentini. In alcune giornate, come spiegano i tecnici dell'ISEDA, ci si trova costretti a mettere in servizio un secondo automezzo per poter far fronte alla quantità di spazzatura che si deve raccogliere e che è nettamente superiore a quella che solitamente viene lasciata in ogni singolo punto di raccolta. Verrebbe da pensare, spiega l'amministratore delegato di ISEDA, Giancarlo Alonci, che diversi cittadini dei comuni vicini al capoluogo non vogliano rinunciare alle loro ataviche abitudini di non differenziare i rifiuti, nonostante la legge lo imponca e continuano a lasciare la spazzatura nei tradizionali contenitori che ad agrigento al momento sono ancora presenti. Ci domandiamo due cose. La prima è cosa succederà quando anche nel capoluogo partirà la differenziata e i cassonetti spariranno del tutto. E la seconda è perché non si riesce a monitorare due o tre zone a rischio dove ormai, dopo mesi, è conclamato che sono state scelte come discariche personali di alcuni.